La filiera del tabacco, quale futuro, era il titolo dell'incontro web che si è tenuto lo scorso 9 dicembre. L'iniziativa promossa da Confagricoltura, Unione Nazionale Tabacco e Cia Agricoltori è stata l'occasione per discutere delle policies a sostegno di un comparto strategico con operatori del settore Confagricoltura e Cia, manifatture come JTA Italia che hanno contribuito allo sviluppo del distretto tabacchicolo dell'Alta Valle del Tevere in Umbria e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Teresa Bellanova. Proprio per il Ministro, il settore del tabacco ha un ruolo centrale nell'economia del paese e anche in Umbria, dove rappresenta uno dei cardini dell'Alta Valle del Tevere, dove impiega 2.000 lavoratori. JTI e TTI hanno rinnovato l'investimento di 28 milioni di euro per il prossimo anno. Almeno 7.000 tonnellate di tabacco italiano provenienti dal distretto di eccellenza dell'Alta Valle del Tevere e dalle zone evocate della Basso Veronese verranno acquistate dal gruppo con l'obiettivo di contribuire alla stabilità del comparto a conferma della rilevanza che assume per il settore agricolo nazionale e per l'economia del territorio. Per l'assessore Morroni è un settore imprescindibile che riveste una valenza economica e sociale importante. Intorno a quelli che riteniamo essere gli assi per uno sviluppo futuro, ci sono quello dell'aggregazione, quello della qualità e quello dell'innovazione. Ecco, se dovessi dare uno sguardo alla tabacchicoltura Umbra, devo dire che, specie in questi ultimi anni, questo settore ha rappresentato già un'avanguardia e un esempio sotto questo punto di vista.